La prima volta che sono scoppiata a piangere in un contesto professionale ero in seconda alimentare. I miei genitori avevano smesso di parlarsi, avevano iniziato a dividere bene abitudini e a separare la mia famiglia per sempre. Ricordo che la mia maestra di matematica mi asciugò le lacrime. La prima volta che ho lasciato una stanza professionale sbattendo la porta ero alle medie. Stavamo guardando un filmato un po' violento sulla seconda guerra mondiale. Pochi giorni prima una delle mie migliori amiche era stata investita morendo sul colpo mentre attraversava la strada e la mia professoressa di storia mi trovò rannicchiata in bagno. Già in preadolescenza per me era chiaro quanto l'amore potesse fare male e quanto la vita potesse finire all'improvviso. E quindi iniziai per reazione a proteggermi dalle mie stesse emozioni, chiudendomi in me stessa. Non ero un robot però e quindi molto presto iniziai a soffrire di fortissimi mal di testa ed insonnia. Così mi rivolsi al medico di famiglia che in un paese di 8.000 abitanti conosceva il contesto da cui provenivo e che mi suggerì di rivolgermi a una psicologa. Per la prima volta a 15 anni iniziai a raccontare la mia storia ad altavoce, quello che era stato il mio grande dolore e piano piano a distendere quella tensione. Peccato non fosse finita lì, troppo facile se no. Quando avevo 18 anni mia madre decise di seguire il compagno a 300 km di distanza avverando inavvertitamente quella che è la paura più grande per la figlia e i genitori separati, cioè l'essere abbandonata. Le emozioni si facevano veramente tanto importanti ma io ero più forte, ero molto determinata, ero una ragazza molto tosta. Mi ero allenata in una palestra di judo per 16 anni. Non so se siete mai stati in un dojo, in una di quelle palestre giapponesi in cui ci sono questi materassini tatami, dove la prima cosa, la cosa principale che si fa è il cadere, cadere per rialzarsi, cadere per rialzarsi ed imparare qualcosa di nuovo ad ogni caduta. Io ero molto allenata, vincevo tra l'altro sempre con i miei compagni maschi. Questa capacità di imparare, di allenarmi, di essere determinata e tenace, di indirizzare le mie energie verso qualcosa di molto chiaro, mi ha aiutato a indirizzare il mio futuro verso l'unica soluzione che vedevo per me, cioè l'università. Quindi testa bassa sugli alfa test, sono stata ammessa nell'università migliore d'Italia dove studiare economia e dove ho iniziato a frequentare nuovi compagni di università, di classe, nuove amicizie. Mi sono spostata a quel punto, appunto a Milano, in una residenza dove avevamo più di 250. E questi più di 250 nuovi coinquilini erano per me una nuova fonte di esempio, erano per me qualcuno da cui potevo apprendere, con cui potevo condividere. Un grandissimo nuovo inizio. Peccato che quella mia capacità di tenere le emozioni sotto controllo mi avesse rigidità tantissimo. E quindi quando arrivava la sessione d'esami io sforavo tutta la mia ansia su questi miei amici, su questi miei compagni di residenza che giustamente mi evitavano. Avevo molti comportamenti rigidi perché per me quella rigidità era stata la soluzione, la sopravvivenza, la sopravvivenza emotiva a tutta quella sofferenza che avevo imparato a gestire. E quindi ero convinta di non poter cambiare, ero convinta di dover proteggere quei miei comportamenti per sopravvivere. E davo la colpa agli altri, cioè sono gli altri che non capiscono quanto ho sofferto, sono gli altri che mi creano una barriera davanti. Quindi giustamente con questa capacità di andare avanti dritta per la mia strada ho iniziato poi a lavorare in un'azienda molto grande italiana dove avevo avuto l'occasione di lavorare con manager dall'esperienza internazionale che mi hanno fatto crescere tantissimo da un punto di vista analitico, strategico e nonostante questo, questa grande nuova opportunità di nuovo mi trovavo in situazioni in cui avevo dei comportamenti di cui non vado tanto fiera. Per esempio mi succedeva che mi arrabbiassi quando i miei colleghi non ascoltavano quello che avevo da dire, anche se a volte quello che avevo da dire non era molto utile a loro, che avevano molta più esperienza di me. Oppure quando veniva promosso qualcuno che non stimavo vivevo un senso di forte ingiustizia. Oppure ancora mi vergognavo profondamente degli errori che facevo, piccoli e grandi, anche se gli altri non se ne accorgevano. E credo che alcuni di questi comportamenti li avviate vissuti anche voi, magari più all'inizio della vostra esperienza lavorativa che non oggi. Ma io all'epoca ancora davo la colpa agli altri, cioè io ero giusta così. Era il contesto che non mi aiutava a sprigionare il mio potenziale, la mia energia. E quindi decisi di cambiare nuovamente lavoro, quindi contesto. Iniziai così a lavorare in un negozio di una multinazionale della tecnologia dove ogni giorno ero a contatto con centinaia se non migliaia di persone e dove quella rigidità diventava veramente difficile da mantenere. Oltretutto il ruolo dei miei colleghi, dei miei responsabili era quello di insegnarmi la leadership, cioè insegnarmi a guidare il team verso una direzione unica, ad arrivare a un obiettivo comune. E fortunatamente in quel nuovo contesto mi venne dato un nuovo strumento che possiamo chiamare zoom out, cioè la capacità allenata di fermarmi a pensare quando succedeva qualcosa che attivava questo genere di emozioni, per quale motivo mi sentissi in un certo modo e per quale motivo gli altri reagissero in un certo modo ai miei atteggiamenti. Questa capacità dello zoom out è qualcosa che avviene in un dojo, in una palestra, cioè io mi alleno tuttora a fare meglio, a capire perché gli altri agiscono e reagiscono nei miei confronti in determinati modi. E oggi mi succede che non mi arrabbio più quando gli altri non mi ascoltano, ma mi chiedo se sto dicendo qualcosa di valore e se la sto dicendo nel modo corretto e se l'altra persona in quel momento può ascoltare le mie parole. Oppure non mi vergogno più se faccio degli errori, mi chiedo se ho gli strumenti per fare gli errori e per fare le cose bene, abbracciando di fatto quell'essere umano che sono. Oppure se qualcuno viene promosso, anche se non ha la mia stima, perché questo succede chiaramente ancora oggi, mi chiedo cosa quella persona ha capito più di me, cosa posso imparare io da lei. E ho deciso che quello che voglio fare della mia vita oggi è aiutare il più grande numero di persone possibili ad avvicinarsi a questa palestra, a questo zoom out. Voglio aiutare specialmente le organizzazioni a supportare le loro persone, ad hackerare le loro potenzialità, quindi a rompere quegli automatismi che a me hanno fatto tanto male e che anche se non fanno male bloccano la nostra potenzialità. Io credo che oggi in Italia ci sia un grosso problema di produttività. Il mercato del lavoro non riesce a crescere, il mercato in generale non riesce a crescere e spesso questo succede perché noi stessi, ognuno individualmente, ci chiudiamo dentro le nostre emozioni. Non riusciamo a esprimere noi stessi, non riusciamo a confrontarci con gli altri in un modo adeguato. Io ho imparato che la vita è un percorso collettivo, che noi cresciamo ed impariamo con gli altri e grazie agli altri. E sono molto orgogliosa oggi di dire che al centro della metodologia che abbiamo disegnato c'è proprio lo scambio umano, perché noi possiamo imparare a crescere, imparare a capire come funzioniamo solo confrontandoci con gli altri, solo potendo parlare con persone che vivono le nostre azioni e le nostre reazioni e che ci dicono che cosa trasmettiamo loro. E credo che oggi più che mai abbiamo tutti il dovere di hackerare la nostra capacità di fare zoom out. Grazie.